L'arrivo alla stazione Termini contiene i rumori di fondo di sempre, tra stridio di ruote e fischio della locomotiva. Forse proprio per questo il treno che rievoca la traslazione della salma del milite ignoto, l'Aquileia a Roma, ha il sapore potente della memoria. Il 28 ottobre di cento anni fa, una donna, Maria Bergamas, privata dalla guerra anche dei resti del suo figlio caduto nel 1916, scelse una bara tra le undici di soldati senza nome, da cui partì un lungo viaggio in treno che attraversò un'Italia ancora ferita dal devastante conflitto. Fu anche un momento di comunione popolare rispetto a una guerra che prima e in parte anche durante aveva fortemente diviso gli italiani. Il 4 novembre del 1921 fu il re Vittorio Emanuele III, insieme ai medagliati di guerra, a scortare i resti del milite ignoto all'altare della patria. A un secolo di distanza toccherà il presidente della Repubblica Mattarella, che ieri ha presenziato a una messa in ricordo dell'accoglimento del simbolico feretro, onorare domani, 4 novembre, il simbolo dei morti di tutte le guerre, con uno spirito che superi ogni idea bellicista. Ricordare quel senso di unità e di comunità che venne fuori dalla celebrazione di quel sacrificio.